Nuovamente assieme, ben ritrovati, gentili telespettatori, nuova edizione del telegiornale del Friuli, Venezia, Giulia. In apertura dobbiamo parlare purtroppo di una tragedia che si è consumata nella destra Tagliamento a Tazzano Decimo ed è lì che ieri una mamma ha trovato riverso in casa, nel bagno, il proprio figlio di solo i 26 anni. In immediata la segnalazione giunta al 118 che ha inviato l'ambulanza sul posto, sono arrivati poi anche i carabinieri, i vigili del fuoco. I soccoritori hanno cercato a lungo di rianimare questo 26enne purtroppo senza riuscirci. Un dramma che ha sconvolto la famiglia e la stessa mamma. Sentiamo il servizio d'apertura del nostro telegiornale. Tragedia in una palazzia di Via degli Olmi a Tazzano Decimo. Un ragazzo di 26 anni, FC le sue iniziali, è stato trovato morto all'interno dell'appartamento dove viveva con la mamma e il papà. Era riverso a terra, privo di sensi, in bagno. Un malore fatale lo ha colpito mentre si trova da solo nella villetta a schiera che condivideva con i genitori. Non sono note le cause del decesso e sarà l'autopsia a fare piena luce. Il giovane, in passato, aveva fatto uso di droga. A chiedere aiuto è stata la mamma che è rientrata a casa verso le 18.30, ha scoperto quello che era accaduto. In pochi minuti, in quella stradina dove sorgono piccole palazzine e villette, sono levati i vigili del fuoco, i carabinieri di Azzano Decimo e di San Vito e gli operatori del soccorso con l'ambulanza. Sono stati proprio questi ultimi a cercare di ridare la vita al 26enne. Hanno tentato di rialimarlo per diversi lunghissimi minuti, purtroppo inutilmente, e a quel punto non è rimasto altro da fare che constatarne il decesso tra la disperazione e le lacrime della stessa madre. Sarà l'autopsia, appunto, che sarà definita dal PM Maria Grazia Zainad, a stabilire con certezza le cause della morte del ragazzo che da quanto ha preso ha un fratello più giovane. L'unica certezza per ora è quella che si tratta di un decesso senza coinvolgimento di terzi. Il ragazzo ha avuto trascorsi di tossicodipendenza, ma da qualche tempo sembrava aver imboccato la strada che porta all'uscita nel mondo della droga e cercava di tenersi alla larga dalle cattive compagnie. Gli inquirenti non escludono comunque che possa essere stata un'overdose a causare il decesso. Si tratta solo di congettura al momento, dalle quali, ammi del medico legale, a dare forma. Ancora cronaca, nel mio provincio di Udine, a Pagnacco, un'indagine è stata avviata dai carabinieri per stabilire la causa di morte di un anziano il cui cadavere è stato trovato nel pomeriggio di ieri nel cortile della sua abitazione a Pagnacco. Secondo quanto si è appreso, inizialmente i militari intervenuti hanno valutato il caso come un decesso per cause laterali. Successivamente però sono emersi elementi che hanno spinto gli investigatori ad approfondire le indagini per escludere definitivamente la possibilità di altre cause che non quelle naturali. Intanto l'abitazione in cui l'uomo viveva è stata sequestrata e del fatto è stata informata la procura di Udine. Cambiamo decisamente pagina, torniamo in provincia di Pordenone a Cimolais, dove ha sede l'acqua Dolomia, ha sempre più un marchio internazionale di successo, 100 milioni di bottiglie vendute, un vero record e in arrivo ci sono assunzioni e nuovi investimenti. Sentiamo. Acqua Dolomia continua nella crescita annuale a doppia cifra. Il 2018 per la società sorgente Val Cimoliana di Cimolais si chiude con un aumento del 16% rispetto allo scorso anno, ma il vero record dell'anno è il traguardo dei 100 milioni di bottiglie. Per il 2019 la società ha previsto importanti investimenti per arrivare al 2020 con un grande nuovo progetto che riguarda le bottiglie in vetro. Verrà potenziata la produzione di contenitori in vetro e avviata la buona prassi del vetro a rendere. Un cambiamento che porterà anche nel giro di un paio di anni a importanti investimenti nel sito della Val Cimoliana e all'assunzione di nuovi 5 o 6 addetti. Attualmente la società da lavoro ha una quarantina di dipendenti, sono 60 con l'indotto legato ad artigiani e al trasporto. Il grande obiettivo di Dolomia, unica acqua al mondo che si produce all'interno di un parco patrimonio dell'UNESCO, è quella di candidarsi a essere l'acqua delle Olimpiadi del 2026. Siamo, ha spiegato l'amministratore delegato Gilberto Zaina, con il presidente Italo Casagrande, illustrando i risultati dell'anno che sta per chiudersi, sempre più conosciuti come l'acqua delle Dolomiti, essendo la nostra fonte nel parco delle Dolomiti friulane. Nostro obiettivo è rafforzare ancora di più questa immagine. All'estero ci conoscono in genere le Alpi, noi insisteremo moltissimo anche con i nuovi marchi e il packing dei nuovi prodotti per la grande distribuzione e per hotel e ristoranti sull'immagine delle Dolomiti. È chiaro che in queste ottiche le Olimpiadi del 2026 saranno un'occasione decisamente importante. La società della Valcellina chiuderà il 2018 con il numero record di 100 milioni di bottiglie vendute, con un valore previsionale della produzione di oltre 13 milioni di euro, in crescita del 16% sul 2017. Numeri positivi, nonostante l'annata, da un punto di vista climatico, non ha certo favorito il traino delle vendite rispetto all'anno precedente, infatti il 2018 è stato meno caldo. Inoltre, nel mese di novembre c'è da mettere in conto il fermo produttivo di circa 10 giorni, dovuto all'eccezione e ondata di maltempo che ha devastato anche la Valcellina. Dolomia ha progressivamente aumentato la sua quota export, arrivata oggi a circa il 20% del fatturato. In Europa viene esportata principalmente in Belgio, Olanda, Polonia e Russia, mentre nel mondo sono forti e rinnovate le partnership con distributori negli Emirati Arabi e l'interarea del Golfo Cina, Indonesia, Repubblica Dominicana e Stati Uniti, anche se negli USA il mercato è più protetto e quindi è diventato più difficile esportare. Stiamo concludendo il 2018 in linea con gli obiettivi previsionali. Nel 2020 riteniamo di poter raggiungere il target di 150 milioni di bottiglie prodotte. Crescono anche le sponsorizzazioni nel campionato della Serie A, con ben tre squadre sponsorizzate. All'Udinese, al Genua, suggerà breve anche la Spal Ferrara. Ancora cronaca, andiamo a Trieste, è stato colto da un malore mentre era al volante della sua Land Rover grigia, un arresto cardiorespiratorio che l'ha fatto letteralmente schiantare contro un'auto che era parcheggiata, un incidente stradale che è avvenuto poco dopo le 13 di oggi in Via Conti, all'angolo con via dello Sterpeto, il conducente di questa Land Rover all'interno dell'abitacolo non respirava, è subito intervenuta la polizia locale con i vigili del fuoco e l'ambulanza seguita dall'automedica. I soccorritori hanno trovato l'uomo in arresto cardiorespiratorio e hanno immediatamente iniziato a praticare le manovre avanzate di rianimazione cardiopomulare. Il paziente è stato quindi trasportato in condizioni di alterazione delle funzioni vitali alla emodinamica dell'ospedale di Cattinara, dove sono perseguiti gli sforzi rianimatori. E ora parliamo di importanti investimenti da parte della Giunta guidata da Massimiliano Fedriga, che ha stanziato ben 14 milioni di euro ogni anno per la famiglia. Sentite il servizio con la stessa Assessore. Assessore, oggi la Giunta ha approvato un emendamento che porterà molti vantaggi alla famiglia. Sì, la Giunta regionale è convinta di voler dare una spinta importante di sostegno per le nostre famiglie e per la natalità nella nostra regione. E per questo abbiamo destinato una somma importante, che il regime vale 14 milioni di euro per ogni annualità, per dare un sostegno alle nostre famiglie che decidono di iscrivere i bambini agli asili nido. È un dato importantissimo perché attraverso questa misura noi vogliamo, prima di tutto, innalzare il limite ISEE da 30 a 50 mila euro per i secondi geniti e ulteriormente dare un contributo per i secondi figli che frequentano gli asili nido fino a un massimo di 600 euro per abbattere le rette degli stessi. Quindi si amplia la platea di questi provvedimenti? Si amplia la platea, ovviamente convinti che ci sia una necessità per le famiglie della nostra regione di aiutarle anche a conciliare quello che è il rapporto tra maternità e lavoro e quindi in questo senso ampliamo il tetto ISEE portandolo a 50 mila euro. È una sfida che appunto è frutto di un lavoro importante che va ad attuare il programma Fedriga. Noi crediamo che questo dia un grande rilancio e dia un sostegno davvero serio per le nostre famiglie. 5 milioni di euro arriveranno invece per le imprese, lo ha ribadito l'assessore Bini. La Giunta accoglie le richieste delle piccole e medie imprese con una misura che vale 5 milioni di euro e a partire da adesso e per chi è prevista? Beh, è una misura assolutamente importante che a seconda appunto le richieste che ci sono arrivate dalle imprese e dell'associazione di categoria abbiamo voluto portare una piccola rivoluzione per facilitare, per snellire l'iter burocratico che oggi appesantisce un po' l'agire quotidiano delle nostre imprese passando da quello che è il concetto di bando contributo al credito d'imposta. Una procedura molto più snella, molto più veloce, in grado di mettere nelle tasche delle nostre imprese i soldini subito. Noi abbiamo voluto introdurre questo credito d'imposta per la ricerca e sviluppo, la big data, l'innovazione in pratica. Noi abbiamo l'obbligo di accompagnare le nostre imprese a traguardare il futuro con serenità. Insomma, questa è una norma importante, un ammendamento importante della Giunta Fedriga. Ci fermiamo con l'edizione del Friuli Venezia Giulia, ci diamo appuntamento con le altre news e non prima di avervi ricordato che potete seguire i nostri servizi anche sulla pagina Facebook di Media24. Grazie a voi tutti per essere stati con noi e buon proseguimento con i programmi della rete.